Ci eravamo lasciati a Tivoli con quell'espulsione che penso che un po' l'amareggia ancora, no? Sì, è stato un rammarico, ho sbagliato, infatti chiedo scusa a tutti ma purtroppo gli errori ci sono e si va avanti. Io sono convinto che saremo più forti di prima perché giustamente darò il massimo anche io per dare di più e per vincere questo campionato. Veniva da un lungo periodo di inattività, la partita le mancava da maggio, poi si è dovuto fermare per tre giornate, come sta? Sì, mi sono dovuto fermare quattro mesi, ripartire non era facile soprattutto con i ragazzi che sono in forma e ripartire giustamente non è facile però ce la sto mettendo tutta e adesso sto meglio, sto bene quindi sono in condizione di dare la mano alla squadra. Col direttore sportivo De Angelis era a Campobasso, nel 2021 avete vinto il campionato, che girone F ha ritrovato Francesco Bonta? Un girone tosto, molto equilibrato, quindi difficile, molte squadre sono alla portata ma anche loro danno tutto, danno l'anima e noi dobbiamo continuare così come stiamo facendo e non mollare un centimetro. Si riprende dopo la sosta a Fossombrone, quant'è importante questa partita e quanto lo sono le prossime due in trasferta appunto a Fossombrone e a Riccione? Purtroppo sono tutte importanti da domenica fino alla fine, c'è nessuno indispensabile e quindi dobbiamo dare una mano a tutti e fare il meglio e portare i punti a casa. Quanto vede forte questa Samba e come l'ha vista anche nelle ultime partite magari dalla tribuna? No, io quando sono venuto qui ho visto giocatori giovani forti che hanno una prospettiva molto importante e si vede perché dall'ultima partita soprattutto i giovani hanno dimostrato che dare una mano e correre tutti insieme e giocare bene come stanno facendo è una grande cosa, quindi la squadra è forte ed è buona per fare grandi cose.